Ascome confesercenti sul piede di guerra contro il contestatissimo caro parcheggi in terraferma. Secondo le associazioni di categoria si tratta né più né meno che dell'ammazzata finale per dare il colpo di grazie alle già agonizzanti botteghe del centro di Mestre. La scelta che ha fatto il commissario ovviamente affossa ancora di più la situazione di Mestre che è già difficile, non solo per la presenza della grande distribuzione, uno dei pochi casi unico in Italia che proprio nella vicina periferia del centro ci sia la presenza così forte della grande distribuzione, ma questa va accompagnata anche a una crisi economica con una drammatica riduzione dei consumi. Una scelta incomprensibile dunque che secondo Franceschi non porterà nemmeno gli sperati aumenti nelle casse del comune, visto che gli automobilisti a questo punto preferiranno starsene lontani dal centro. Quindi una scelta sbagliata, sbagliata profondamente, che noi chiediamo venga rivista, abbiamo inviato una lettera al commissario, ma se non farà lui aggiusterà questo provvedimento, questo argomento sarà uno dei principali argomenti che chiederemo ai candidati sindaci e quindi al futuro sindaco di aggiustare. Candidati che non tardano a rispondere all'appello. Dopo la presa di posizione del grillino Davide Scano arriva quella dell'imprenditore Luigi Brugnaro. È un provvedimento profondamente sbagliato, tuona, ancora una volta si punta a fare cassa e discapito dei cittadini con un modo di amministrare che denota solo l'intento di raschiare il barile. Questa misura, insieme all'ipotizzata cancellazione della fascia sosta libera all'ora di pranzo, rischia di produrre effetti devastanti sull'accessibilità e la frequentazione del centro. Chiediamo di evitare questo blitz a danno dei cittadini e di ritirare il provvedimento.